Ciao a tutti ragazzi bentornati nel mio canale youtube oggi facciamo la recensione di un pacchetto che mi è arrivato direttamente dalla Germania dai ragazzi di MCcases.com è piccolissima, è veramente minuscola è la nuova custodia, il nuovo case dedicato allo Spark in questo caso dedicato al mio X300S che vi mostro immediatamente in tutti i suoi dettagli il case è rigido e stagno ha anche la valvola per la pressurizzazione in aereo che ci permette di trasportarlo praticamente ovunque non ho ancora provato l'impermeabilità ma conoscendo i ragazzi di MCcases che sono veramente bravi utilizzano dei materiali fantastici non ho dubbi su questo prodotto si apre con questi gancioni giganti veramente fatti bene e piacevoli al tatto si sente che anche questa è plastica di qualità e aprendo il case ecco che cosa troviamo all'interno e come si presenta eccoci qui in dettaglio all'interno della scatola del case firmato appunto MCcases qui abbiamo la marchettina MCcases.com magari giù nell'info box vi lascio anche un link per l'acquisto diretto ma vediamo che cosa troviamo all'interno del nostro piccolo piccolissimo case troviamo l'X300S in questo caso il piccolo Spark modificato e alleggerito per l'utilizzo nei centri abitati senza la necessità di ottenere attestati, patenti e quant'altro magari sopra qui o qui da qualche parte vi lascio il link per andare a vedere la recensione dell'X300S dove andare a comprarlo e via dicendo all'interno di questa scatola che è tutta gommosa e prestampata e pretagliata troviamo l'alloggiamento perfetto veramente veramente perfetto per il nostro Spark sotto per non sprecare assolutamente nessun tipo di spazio hanno messo il caricabatterie che anche questo vedete è perfettamente inserito lì all'interno vediamo se si vede poi troviamo uno spazio per le batterie due spazi per le batterie tre spazi quattro e cinque quindi ci stanno cinque batterie più la batteria stessa del X300S o del vostro Spark qui troviamo quattro spazi per i paraliche originali quindi uno, due, tre e quattro oppure in un unico spazio per quanto riguarda l'X300S ci stanno tutti e quattro i suoi paraliche in fibra di carbonio per permettere al mezzo di rimanere sotto ai 300 grammi di peso e quindi di renderlo inoffensivo poi abbiamo lo spazio per il radiocomando prima del radiocomando abbiamo lo spazio per la piastrina che ci permette di caricare contemporaneamente tre batterie dello Spark abbiamo lo spazio per il radiocomando e anche qui molto fatto bene perché lo spazio è gestito con la possibilità di non andare a schiacciare effettivamente i nostri stick e sotto allo spazio per il radiocomando abbiamo un altro scomparto segreto che ci permette di inserire all'interno io in questo caso ho messo l'ultima parte del caricabatterie che mi serviva ovvero il cavo di alimentazione che va attaccato alla spina della corrente è veramente piccola perché avete visto quanto spazio c'è all'interno del case seppur è veramente minimo qui sopra ovviamente è tutto ammortizzato anche qui e per il prezzo non me lo ricordo più il prezzo però ve lo metto qui sotto in descrizione ma si parla di poche decine di euro non si arriva neanche ai 100 euro per questa splendida valigia della MC Cases spero che vi sia piaciuta questa recensione che vi possa essere utile perché vi ripeto per trasportare il vostro Spark o il vostro X300S se siete dei professionisti all'interno della borsina quella dello Spark io sinceramente non mi piace mi piace di più avere qualcosa di professionale e di sicuro insomma che non mi si spacchi tutto quanto stupidamente con una valigetta con la borsina originale che sinceramente non è proprio la mia preferita quindi pollici in su per questo splendido case della MCCases.com pollici in su per il mio video iscrivetevi al mio canale se non vi siete ancora iscritti un saluto a tutti quanti e ci vediamo con la prossima puntata ciao